E inizia la giornata proprio con un super dampone di Ethereum, ragazzi, che avviene tutto alle ore 10 della giornata di oggi. Perché? Perché c'è un evento molto particolare, cioè la possibilità di togliere, di convertire i BETH, quelli di Binance, in Ethereum e toglierli dallo stake. Quindi questa possibilità ha causato poi questo down che state vedendo in questo momento con volumi anche abbastanza importanti relativi agli ultimi giorni. Questo è un grafico orario e il dampone quindi che stiamo vedendo in questo momento è collegato a questa questione che oggi vi mostro. Intanto benvenuti ragazzi, bene ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare un po' il punto della situazione di questa situazione qui che è avvenuta proprio nella giornata di oggi per cercare di capire se in effetti da qui in poi ci può essere un'inversione di tendenza per quanto riguarda la fase rialzista che aveva caratterizzato i mercati in queste ultime settimane, soprattutto quella di Ethereum. E un po' ragazzi, questa fase di bassista arriva forse a toccare dei livelli importanti ma non modifica attualmente il trend di breve. Ne parliamo oggi insieme alla questione legata a Bitcoin, quello che ce l'avamo detti nel video di lunedì dove vi dicevo la mia operatività per quanto riguarda la settimana in questione. In effetti ha fatto un accenno, un tentativo di rialzo proprio nella giornata di martedì ma io vi avevo detto in quel video che bisognava attendere mercoledì un po' perché mi aspettavo questa questione e non vi nascondo relativa a Binance, adesso ne parliamo un po' perché a livello di tempo e quindi analisi ciclica ancora una volta che ci salva come filtro temporale non avevamo il tempo sufficiente, tra virgolette, vi dico questa cosa, per iniziare una nuova fase quindi da qui in poi invece il tempo è giusto perciò ragazzi io in questo momento poi su Bitcoin sto monitorando un'operazione long per qualche giorno ma è trading, ve ne parlo alla fine del video per gli amanti del trader, del trading come vi ho detto comunque mercoledì. Allora iniziamo alla questione legata ad Ethereum, guardiamo quello che è stato il prelievo negli scorsi giorni dalla stake, allora è stato consistente ragazzi, molto rilevante anche in questa seconda ondata quando diciamo sono stati convertiti, c'è stata una questione legata proprio alla parte informatica e quindi è tutto collegato diciamo in una unica fase questo unstake di ETH sostanzialmente, qui però dal 17 in poi è iniziata una fase di ripresa di questa curva che sarà la nostra curva di riferimento poi ragazzi perché questa fase di dump e di unstake insomma degli ETH è abbastanza naturale e l'importante è che poi questa curva si vada appunto a ripristinare nuovamente dopo questi shock che sono avvenuti. È ovvio che un po' la pressione e la paura con la questione dell'effetto riflessivo sulla unstake di Ethereum si ha ragazzi e questo è stato anche un po' il risultato cioè un dump di meno 4% nell'arco di pochi minuti sostanzialmente dovuto alla questione poi di Binance ma che si porta dietro, vedete, meno 5% dalla parte di up alla shadow ribassista ma che si porta dietro appunto anche tutta questa zona avvenuta in una settimana dal 12 aprile fino ad oggi, 19%, una settimana si porta dietro questa onda di iper fase ribassista se no che comunque ragazzi la notizia di Binance che trovate anche qui in sostanza cioè dal, vedete, 19 di aprile era possibile riscattare gli ETH cioè poi riscattare i BETH in ETH trasformandoli e ricevere l'importo equivalente in Ethereum ora che questi Ethereum di Binance siano stati venduti serve un po' di tempo per capirlo e che abbiano loro causato in pratica questa parte dump serve un po' di tempo per capirlo però sostanzialmente l'orario coincide alla perfezione perché proprio nella giornata del 19 aprile alle ore 10 orario Italia questo dumpone, questa diciamo conversione era possibile ed ha causato proprio un dump quindi è ovvio che sia collegata la questione perché questo dump è esattamente coincidente con l'unstake degli Ethereum di Binance che ragazzi erano consistenti perché perché Binance comunque aveva già una quantità in stake di Ethereum notevole comunque sapete un po' come l'impatto di quello che avviene su Binance viene trasferito all'intero mercato in maniera abbastanza veloce se non che comunque ragazzi la domanda a questo punto è questo dumpone di Ethereum finisce qui cioè sostanzialmente abbiamo visto un panico generato per lo più magari da qualcuno che è voluto uscire da Ethereum che era insomma su Binance qualche retail perché magari non erano quelli istituzionali che non avevano fatto le pool insomma invece avevano messo i B e TH per quale motivo non venderli poi direttamente in B e TH cioè qual è la diciamo l'unione di queste due eventi ragazzi dal mio punto di vista è una questione emotiva, riflessiva non c'è un reale motivo in termini oggettivi di mercato nell'aver atteso le ore 10 di oggi per togliere, per convertire i B e TH in Ethereum e poi dampare cioè questa cosa qui insomma non ha molto senso logico perché se io volevo dampare gli Ethereum vendevo i B e TH ragazzi fatto sta che comunque questa fase di bassista è avvenuta e insomma quindi dobbiamo prenderne atto perché poi il mercato come sempre ha sempre ragione c'è da dire però che al momento se guardiamo il grafico di daily di Ethereum questo rientro sul livello di supporto numero 1 che sono le due medie mobili che utilizzo io ragazzi per zona di supporto ha retto in questa fase quindi secondo me bisogna attendere domani dopo domani per comprendere se effettivamente questa è una candela rossa isolata seppur una candela importante che in questo momento segna come vi dicevo un meno 6,49 su Ethereum a livello daily quindi comunque è avvenuto un damp importante c'è da dire che essendo molto rialzista la fase precedente magari questo damp noi lo vediamo ma si vede un po' poco quindi uno non è molto consistente diciamo questo damp rispetto al trend di ampio di lungo periodo diciamo così di breve più che lungo periodo breve medio questo è che aveva caratterizzato gli ultimi due mesi allora detto questo bisogna monitorare alcuni livelli in particolar modo il breakout della media mobile quella che vedete che la media mobile è lunga a 21 periodi sarebbe molto negativo in questo momento la media mobile a 21 periodi è sostanzialmente intorno ai 1900 dollari 1925 considerate che 25 dollari non ha alcun impatto diciamo su questo prezzo un 1% abbondante ma niente di riavante quindi un break di questo livello delle medie ragazzi mi farebbe molto riflettere infine il break del minimo a 1821 di questo swing ribassista sarebbe la inversione di trend di breve periodo di questa fase perciò andrebbe sicuramente monitorata anche in vista della questione che vi ho detto sul video che parlavo di Ethereum e negli ultimi video ragazzi sono molto importanti perché sono tutti collegati sul canale e vi descrivono questa situazione cioè la questione del ciclo annuale di Ethereum se effettivamente è iniziato a novembre con Bitcoin o è iniziato a giugno perché se è iniziato a giugno ragazzi come da teoria ciclica applicata alla perfezione dovrebbe essere iniziato a giugno a questo punto il fatto che Ethereum possa aver fatto il massimo del ciclo annuale è abbastanza semplice quindi la probabilità che questo massimo sia il massimo è molto alta se il ciclo di Ethereum è iniziato a giugno se invece è iniziato a novembre no allora queste due ipotesi vanno tenute in stretta osservazione perché è ovvio ragazzi che Ethereum da qui potrebbe andare in close del ciclo annuale suo verso maggio-giugno e quindi il massimo che abbiamo visto nei giorni scorsi a 2100 qualcosa sarà un massimo di periodo che poi serviranno mesi per battere ovviamente come si agisce così siete holder io oggettivamente l'hold che ho su Ethereum lo chiuderò a inversione di breve quindi quando questo trend di breve periodo invertirà io chiuderò insieme ai miei bot perché ho i bot che gestiscono questa posizione li seguo in questo caso su Ethereum li seguo perché il pericolo del ciclo annuale c'è ovviamente i trend follower ragazzi non vendono mai a massimo ovviamente non bisogna mai cercare i massimi anzi se fate questo avete un difetto di natura emotiva che vi porterà a perdere sostanzialmente nel lungo periodo costantemente sui mercati quindi il tentativo di prendere i massimi su un mercato o peggio ancora i minimi è deleterio ragazzi vi ricordo assolutamente non fatelo poi tutti cerchiamo di fare questa cosa è un bias emotivo va tenuto sotto stretta osservazione ma se siete dei professionisti del trading e degli investimenti sapete che questa cosa è completamente sbagliata bisogna accettare la coperta corta allora questo discorso qui va tenuto sotto controllo quindi vi pubblicherò anche se poi uno dei miei sistemi esce su Ethereum lo pubblicherò sul canale Telegram per esempio lo trovate in descrizione ragazzi è come sempre gratuito oppure anche su YouTube poi ne parleremo al momento però tornando su Bitcoin invece io sono in attesa sul re delle cripto di un'operazione long per questa settimana così come vi ho detto nel video di lunedì perché adesso i tempi sono maturi questa fase ribassista che è praticamente tutta collegata alla questione di ETH anche su Bitcoin che ne ha subito un po' il rimbalzo l'unica cosa che fa in questo momento ragazzi è diciamo confermarmi il ciclo settimanale ribassista idea anche del fatto che qui potrebbe Bitcoin essere in fase di chiusura del ciclo di metà trimestrale che è un ciclo importante quindi una fase ribassista che si ferma qui è praticamente il nulla per un ciclo di quel tipo ragazzi quindi significa ancora molta forza per il re delle cripto e quindi un po' io lo sto monitorando se dovesse riprendere una curva a rialzo come ha fatto in questi giorni superando magari le due medie è un indicatore che io utilizzo poi in Academy ho già dato il segnale in Academy dell'indicatore che va guardato per entrare in questa posizione entrerò long attenzione però solo fino a venerdì barra domenica cioè il weekend perché questa non è una posizione di hold non è una posizione di investimenti lunghi ma di puro trading e quindi amanti del trading in questo caso vi sto dicendo cosa farò con tutti gli annessi e connessi cioè stop loss trailing stop immediatamente il take profit ovviamente in questa operazione quindi tutto quello che sono il money management il position sizing e tutto quello che riguarda la materia del trading puro sarà adoperata per questa posizione però era interessante anche farvela vedere perché in queste settimane secondo me non c'era altro da fare e questa è una posizione interessante ma attenzione non deve scendere al di sotto di alcuni livelli primo fra tutti 28.200 questa zona qui se bitcoin crolla giù di lì la questione si mette male quindi poi da lì ingressi long non ne farò anche se dovesse poi invertire nuovamente o comunque sarò in attesa anche perché poi saremmo a fine settimana ovviamente l'ingresso long è atteso tra oggi e domani ragazzi già su venerdì avrei i miei dubbi perché è un ingresso di natura temporale che si basa appunto su un'analisi ciclica questo qui quindi bisogna ragionare in fase ciclica se dovesse però invertire e quindi salire per esempio al di sopra recuperare la quota 30.000 giusto per chi magari di voi non riesce a farlo in maniera più tecnica da lì in poi la possibilità di toccare addirittura nuovi massimi c'è ancora su bitcoin entro la appunto domenica questa zona qui sabato domenica di aprile di questa settimana quindi 22 giorno 22 23 di aprile se dovesse fare una cosa del genere e a quel punto io faccio anche take profit di questa operazione mentre le altre insomma quelle hold sono ancora long su bitcoin sono ancora long su ethereum ma vi ho detto che su ethereum è attenzionata quindi qualora dia segnale il mio sistema di uscita dall'holding uscirò da ethereum per quel problema lì vi faccio vedere tra le altre cose la questione è fortemente legata alla dominance di cui ciclo di cui diciamo ne abbiamo già parlato e il concetto che la dominance debba andare a fare o possa andare a fare magari un nuovo massimo lo si ha solo ed esclusivamente in base ai rapporti fra ethereum e bitcoin ragazzi perché questa è una zona di chiusura di questo ciclo semestrale ma poi parte un nuovo ciclo semestrale sulla dominance che può fare i massimi di questa fase di periodo appunto della dominance stessa tolgo i volumi che qui non ci servono ragazzi ok vi avevo fatto vedere questa zona qui che era una zona che può chiudere su ogni minimo in questa fase della settimana il ciclo semestrale da lì in poi la dominance deve prendere poi una decisione cioè se bitcoin sarà più forte vuol dire anche che ethereum potrebbe essere più debole ragazzi quindi in sostanza noi potremmo avere questa fase da aprile fino vedete a giugno questa zona qui di up della dominance con un massimo finale che porterebbe una coerenza che sarebbe coerente con la questione che ethereum debba andare a chiudere il ciclo annuale appunto tra maggio e giugno in questa fase qui e quindi ethereum più debole bitcoin più forte dominance rialzista fino a maggio giugno questa triade ve la lascio come un grande punto interrogativo la monitoreremo e soprattutto è interessante comprendere come in questo frangente se dovessero convogliarsi essere coerenti queste view che vi dicevo sul ciclo annuale di ethereum a quel punto potremmo tranquillamente avere un massimo della dominance che va a breccare il 49% e quindi si avvicinerebbe poi alla 51 vado 52 non che la dominance ci faccia fare soldi ragazzi con speculazioni ma è un indicatore importante degli equilibri di forza relativa tra ethereum e bitcoin anche perché abbiamo il famosissimo grafico che vi ho mostrato 200.000 volte del rapporto ethereum btc che porta anche lui una fase conclusiva di un ciclo quadriennale in questa zona temporale tra maggio e ottobre questa zona è molto lunga perché questo è un ciclo quadriennale ragazzi quindi non è neanche un annuale perciò questa zona va tenuta sotto stretta osservazione e coinciderebbe ancora una volta alla perfezione con questa view ciclica su ethereum quindi prossime settimane ethereum debole bitcoin forte e alt season rimandata da giugno in poi se vi ricordate il mio video sull'alt season vi dicevo la possibilità che parta un alt season in questi giorni è molto bassa bisogna attendere da giugno e sono proprio questi i motivi vediamo se la questione ethereum proseguirà così attenzione perché non è deve essere diciamo una cosa che delude ma bensì una cosa importante perché nel momento in cui questa view ragazzi è corretta noi abbiamo una data una zona temporale di qualche mese un paio di mesi dove in effetti potrebbe iniziare un alt season e questo è interessante perché da lì si può iniziare poi ad applicare le strategie di trading per cavalcare le cripto le cripto un po' più volatili e quindi solo speculazione ovviamente da quel punto di vista so che molti di voi non apprezzano la speculazione sulle criptovalute che non siano ovviamente bitcoin e ethereum secondo me l'unico modo di operare invece su quel cripto è solo la speculazione io non personalmente non farei mai un hold alla cieca di cripto di progetti più piccoli può portare grandi gain ragazzi ma lo fa sicuramente anche il trading in quel caso perché essendo trend follower se quelle cripto poi partono in un bull run per esempio ce ne sono alcune che io seguo da sempre che mi piacciono come progetti e ve ne parlo anche spesso a quel punto noi saremo comunque long su quella cripto perché siamo trend follower quindi preferisco però agire in quel modo perché se le cose lì dovessero andare male poi perdono il 70% in una settimana vabbè detto questo oggi per un po' di tempo ragazzi saremo un po' o sono fuori zona perché sono di nuovo partito e niente e quindi saremo in compagnia o in questo modo oppure con le mie storie anche su instagram andatele a vedere tanto è gratuito ragazzi mi raccomando su instagram l'account è solo quello che pubblico nei video perché ce ne sono un sacco che sono scammer quindi fate attenzione anche su questo magari faccio un video proprio sugli scammer così li individuiamo una volta per tutte va bene ciao a tutti